Alcune delle cose lasciate dai nostri antichi antenati sono sconcertanti. Quando diciamo che sono sconcertanti, non lo intendiamo solo per noi stessi, ma anche per gli archeologi che li trovano e gli scienziati che li studiano. Abbiamo alcune scoperte archeologiche meravigliosamente strane da mostrarvi in questo video e inizieremo proprio adesso. Numero 1. Libro ebraico salvato. Archeologi e agenti di polizia hanno dovuto lavorare insieme per salvaguardare la nostra prossima scoperta, che è una storia proveniente dalla Turchia nel 2018. Il manufatto in questione è un libro ebraico di inestimabile valore di 800 anni fa, che era arrivato al mercato nero ed era stato sta per essere venduto illegalmente ad Yerbakir, nel sud-est della Turchia. Il tomo medievale, ricco di illustrazioni religiose e composto da 22 pagine in pelle, è in condizioni delicate ed è stato immediatamente posto sotto la protezione dello Stato. Questa è una delle migliaia di operazioni anticontrabbando che la polizia turca effettua ogni anno. È una nazione con un ricco patrimonio culturale e migliaia di anni di storia. Sede di circa 3.000 antiche città costruite da 42 civiltà diverse. La storia del paese gioca un ruolo importante nell'attrarre turisti internazionali, motivo per cui le autorità non vedono di buon occhio le persone che tentano di rubarne o trafficarne. Il titolo e il testo dell'antico libro non sono stati rivelati al pubblico, ma è lecito ritenere che sia di natura religiosa. Speriamo che un giorno trovi posto in un museo. Numero 2. Tronco Louis Vuitton. Continueremo con una storia per gli amanti della moda. Nell'aprile 2022, Connor Hildebrand ha fatto visita a sua nonna Betta Toronto, in Canada. Mentre era lì, ha deciso di dare un'occhiata tra le sue cose. Dove ha trovato questo impressionante baule di Louis Vuitton di 120 anni? Connor, stupito, chiese a sua nonna del baule, ma lei ne sapeva molto poco, a parte il fatto che pensava potesse appartenere a sua nonna molti anni prima. L'oggetto è attualmente noto come i baule a vapore e sarebbe stato realizzato a mano presso la sede del produttore a Parigi, in Francia. Si sa che bauli come questo sono stati venduti in Francia e Inghilterra, ma non ci sono registrazioni di alcuno esportato negli Stati Uniti d'America o in Canada. Come sei finito a Toronto? È un mistero totale. Per la gioia di Connor, il bagagliaio è ancora in condizioni eccellenti con un'usura minima. Un tronco di bagaglio, ancora attaccato alla custodia, suggerisce che sia stato utilizzato l'ultima volta fuori casa nel 1896. Beth non aveva idea che fosse prezioso e aveva trascorso gli ultimi vent'anni usarlo per riporre vecchie attrezzature. Da cucito. Numero 3. Scoperta fossile. Nell'estate del 2020, una guardia forestale stava svolgendo i suoi compiti nelle montagne della Sierra della California, negli Stati Uniti, quando trovò quello che può essere descritto solo come un tesoro di antichi fossili. Questi vanno dallo spettacolare al bizzarro. All'estremità spettacolare della scala c'è lo scheletro completo di un antico mastodonte, ottimamente conservato e in condizioni quasi perfette. All'estremo bizzarro, abbiamo le ossa di un gigantesco salmone che da vivo doveva pesare 180 chili. L'uomo convocò rapidamente nella zona esperti paleontologi, che procedettero alla scoperta di più di 600 alberi pietrificati, un cammello preistorico delle dimensioni di una giraffa e un antenato di elefante precedentemente sconosciuto. Alla scienza. Gli scienziati ritengono che tutte le scoperte risalgano a circa 10 milioni di anni fa, dalle informazioni disponibili sul luogo dei ritrovamenti. Gli esperti ora ritengono che l'area di drenaggio del fiume Mokelumne fosse un tempo una foresta di querce, circondata da acque libere. È improbabile che tutti gli animali vivessero qui, Invece, i loro resti furono probabilmente portati in questo luogo da inondazioni o detriti vulcanici. Allora il paesaggio della California doveva essere molto diverso. Numero 4 Scoperta preistorica Oggi, associamo principalmente l'atto di bere il tè agli inglesi, anche se in realtà sono stati i cinesi a inventare il concetto di preparare e bere il tè. Non è un'abitudine tipicamente americana. Eppure la storia del consumo di tè in America potrebbe risalire a molto più tempo fa di quanto la maggior parte. Delle persone immagini Nel 2012, gli archeologi hanno confermato la scoperta di alcune tazze di ceramica appena fuori strada a Lewis. Una di quelle tazze conteneva tracce di tè preparato 900 anni prima. Le coppe sono state rinvenute all'interno del perimetro di quella che un tempo era l'antica città di Kaokia, nel Missouri. Anche se chiamare i tè il liquido all'interno della tazza potrebbe essere un'esagerazione. Si trattava di un liquido nero con un'alta concentrazione di caffeina e non era caffè. Questo liquido potrebbe essere quello che i coloni europei descrissero nel XVI secolo quando dissero di aver osservato i nativi eseguire un rituale che coinvolgeva grandi volumi di qualcosa chiamato bevanda nera, dopodiché ballavano e poi vomitavano. Questa scoperta del 2012 è la prima prova che la leggendaria bevanda nera fosse reale. Se usata nei rituali, era importante per i nativi americani come lo è oggi una tazza di Starbucks al mattino per gli impiegati. Numero 5. La storia della grande città danese di Copenhagen doveva essere riscritta dopo questa scoperta avvenuta nel 2018, direttamente sotto la piazza del municipio. Gli archeologi hanno scoperto un antico cimitero contenente i resti di 20 uomini, donne e bambini, tutti sepolti circa mille anni fa. Ciò significa che sono antecedenti alla fondazione della città di Copenhagen. La storia ufficiale della città dice che fu fondata dal vescovo Absalom nel 1160, dopo che il re Valdemar gli concesse delle terre. Si presume che prima di ciò l'area non fosse occupata. Dal 2018, altri dieci corpi sono stati trovati sotto i venti originali e gli archeologi sospettano che ce ne siano ancora, altri nascosti. Può anche essere vero che non esisteva il concetto di Copenhagen prima che il vescovo costruisse qui il suo primo castello. Ma ovviamente c'erano persone prima del suo arrivo. Curiosamente, gli archeologi ancora sul posto credono di aver ora identificato i resti di un antico edificio in pietra, forse una chiesa, vicino ai resti umani. La vera storia dei primi occupanti di Copenhagen potrebbe finalmente essere raccontata. Numero 6. Ci siamo diretti in Cina per la nostra prossima scoperta. Un'insolita tomba di forma ottagonale costruita a Yanan circa 700 anni fa. E i murali dipinti sulle sue pareti raccontano storie inquietanti. Il soffitto piramidale della tomba è ricoperto di immagini del sole, della luna e delle stelle, tutte abbastanza normali per l'epoca. Ma uno dei murali sul muro racconta la storia di genitori che cercano di seppellire vivo il figlio. Gli altri murales sono curiosi perché raffigurano persone che indossano abiti mongoli invece dei tradizionali. Abiti cinesi dell'epoca. La scena della sepoltura del bambino potrebbe non essere così sinistra come sembra inizialmente. C'è un'antica leggenda cinese su un uomo di nome Guoyu. Lui e sua moglie si prendono cura del figlio e di sua madre, che è malata. Non hanno abbastanza soldi né cibo per provvedere a entrambi, quindi scelgono di seppellire il figlio e salvare la madre. In cambio di questa apparente buona azione, gli dei li ricompensarono con la scoperta di monete d'oro quando tentarono di scavare un pozzo per l'acqua. Ora che sono ricchi, dissotterrano il figlio e vivono felici e contenti. Che leggenda bizzarra! Numero 7. Misticismo inciso di Kundi. Molti residenti di Karachi, in Pakistan, credono che le tombe Kundi siano infestate. Tuttavia, questa necropoli non ha bisogno di storie e di fantasmi per essere interessante. Piquet è uno degli edifici in arenaria più imponenti del mondo. Ci sono voluti tre secoli per completare la realizzazione e l'intaglio di queste strutture. Con lavori iniziati nel XV secolo e terminati nel XVIII, potresti aspettarti qualcosa di un po' più grande dopo 300 anni di lavoro. Ma presta attenzione agli intricati dettagli delle incisioni e dei motivi sui lati dei blocchi di arenaria. Non c'è modo di affrettare questo tipo di lavoro, prenditi il tempo che serve. Per quanto riguarda le storie di fantasmi, anche le guide turistiche che dipendono dal mostrare alle persone le tombe per vivere non sono disposte ad avvicinarsi alla necropoli dopo il tramonto. Siamo d'accordo con questo consiglio, ma non perché le tombe siano infestate. È solo che se visitassi al buio, non vedresti mai le scene spettacolari scolpite nella pietra. E sarebbe un terribile spreco. Numero 8. Reliquie reali. Le linee della metropolitana sotto la città brasiliana di Rio de Janeiro sono attualmente in espansione. Questo processo significa scavare in un territorio rimasto indisturbato per secoli e ha portato ad alcune scoperte sorprendenti. Uno di questi è un piccolo spazzolino da denti in avorio che si ritiene sia appartenuto all'imperatore Pietro II. Un altro è un tipo di dentifricio che si ritiene sia stato formulato per una regina portoghese. Finora sono state fatte più di 200.000 scoperte, quasi tutte risalenti al XVIII e XIX secolo. È interessante notare che un numero considerevole di manufatti ha collegamenti reali o aristocratici. C'è anche una bottiglia d'acqua ornamentale con le parole alla famiglia reale incise sul lato. Inizialmente gli archeologi rimasero sconcertati dal numero delle scoperte reali, perché questa parte della città era un mattatoio. Questo è l'ultimo posto in cui ti aspetteresti di trovare oggetti come questi. Ora pensano di avere una spiegazione. Non lontano dal sito degli scavi esiste un palazzo imperiale formale. E sembra che gli occupanti del palazzo abbiano utilizzato questa parte della città come discarica senza dirlo a nessuno. I lavoratori della metropolitana hanno scavato nella vera spazzatura. Numero 9. Elmo greco antico. Non tutti gli antichi guerrieri lasciarono il campo di battaglia con l'elmo ancora in loro possesso. Alcuni furono lasciati indietro, per caso o sepolti. Non tutti sono storicamente degni di nota, ma questo elmo greco in bronzo lo è. Questo perché ha 2500 anni ed è stato ritrovato nel distretto russo di Taman, lontano da dove dovrebbe trovarsi un oggetto del genere. L'unico elmo simile a questo apparso prima sul territorio dell'ex Unione Sovietica è stato trovato nel XIX secolo vicino a Kiev. Questo elmo in stile corinzio non assomiglia a nulla di precedentemente scoperto nella regione settentrionale del Mar Nero. Troverete raffigurazioni di elmi come questi su numerose navi greche e anche sulla statua di Atena. Ma trovare esempi reali nel mondo avviene molto meno frequentemente. Si discute ancora se fossero usati per scopi militari o cerimoniali. I caschi sono come un cubo e ostacolerebbero gravemente sia la visione che la libertà di movimento di chiunque. Li indossi. Le strette fessure per gli occhi avrebbero reso impossibile guardare a destra o a sinistra. Quindi in battaglia i guerrieri al loro interno avrebbero dovuto affrontare il nemico frontalmente. Numero 10. Il misterioso braccialetto d'oro ittita. Iniziamo con un bellissimo braccialetto d'oro che è stato scoperto casualmente da un contadino mentre arava il suo campo nel villaggio turco di Clay nel marzo 2022. Il braccialetto ha circa 3300 anni ed è il primo manufatto del suo genere ad essere scoperto con rappresentazioni figurative sulla sua superficie. Inoltre, è il primo braccialetto ittita ad essere trovato con una lunetta ellittica. Una forma importante per gli ittiti ma che in precedenza era stata vista solo sui loro sigilli ad anello. Siamo fortunati che il braccialetto sia sopravvissuto all'incontro con le attrezzature agricole che lo hanno lasciato. Ammaccato e danneggiato. Ha già subito alcuni lavori di conservazione e riparazione e ne subirà altri prima di essere esposto al museo. Archeologico di Corum È stato effettuato un lavoro di riparazione sufficiente per determinare che la figura al centro del rilievo è là. De Ishtar, sebbene il significato preciso della scena sia sconosciuto, gli archeologi hanno condotto scavi estesi nel campo in cui è stato ritrovato il braccialetto, ma non sono stati scoperti altri manufatti. Resta quindi inspiegata la presenza del braccialetto in campo. Numero 11. Scudi di corteccia dell'età del ferro. Nel 2015, gli archeologi hanno fatto una scoperta considerata unica nella storia europea. A L'Estar, nel Regno Unito, furono scoperti diversi scudi di corteccia al periodo compreso tra il 395 e il 255 anno corrente, durante l'età del ferro. Sebbene la corteccia non sia considerata abbastanza forte da resistere al combattimento, gli studi sugli scudi hanno rivelato che avevano visto molta azione. Anche dopo essere stati scartati, resistettero alla prova del tempo sepolti in un pozzo utilizzato per abbeverare il bestiame. I tentativi di ricreare gli scudi hanno sorpreso ulteriormente gli scienziati, scoprendo che erano incredibilmente resistenti e respingevano le frecce e i colpi delle armi. Inoltre erano più leggeri di quelli in ferro ed erano perfetti per il combattimento. Numero 12. Le misteriose tombe ad alveare dell'Oman. Cosa accadrebbe se fossi sepolto in un alveare? Ebbene, questo era qualcosa di molto comune nelle antiche civiltà dell'Oman nord-occidentale, nei siti archeologici di Baat, al Ain al Qutum. Questi siti sono pieni di strutture a forma di alveare che si ergono maestosamente in cima a picchi rocciosi. Osservandoli si resta sorpresi dalle loro dimensioni impressionanti, dato che alcuni di essi possono raggiungere i 20 metri di lunghezza. Tuttavia, queste costruzioni non erano semplicemente abitazioni di misteriose api giganti, ma avevano piuttosto uno scopo molto più peculiare e macabro. Erano utilizzate come luogo di riposo finale per i cadaveri umani. Esatto, si ritiene che queste torri siano tombe fatte di sabbie e mattoni. La più antica tomba ad alveare finora conosciuta risale al 2200 anno corrente. Fu costruita durante l'era Jaffet, un'antica civiltà che lasciò un segno marcato nella regione. I ricercatori hanno ipotizzato che queste torri potrebbero essere la prova che l'area era il sito di Magan, un'antica regione menzionata nei testi antichi. Secondo queste teorie, Magan era una terra ricca di risorse naturali e prospera di attività. Numero 13. La fragile nave di 1300 anni in Francia. Gli scienziati hanno lottato contro il tempo per salvare la nostra prossima scoperta sin da quando l'hanno trovata. Si tratta di una nave di 1300 anni trovata in Francia, dal design eccezionalmente raro. La nave potrebbe essere di enorme importanza per storici e ricercatori, ma potrebbe non durare abbastanza a lungo nel suo stato attuale da poterla esaminare. Le travi di quercia. Castagno e pino della nave naufragata sono così delicate che devono essere spruzzate con acqua ogni 30 minuti, per assicurarsi che non si disintegrino. La barca lunga 40 metri è stata ritrovata sulle rive del fiume Garonne, nel sud-ovest della Francia, all'inizio del 2022. Ma i materiali da costruzione con cui è realizzata non sono stati toccati dall'aria o dalla luce dal giorno in cui è affondata loro estremamente vulnerabili. La datazione al radiocarbonio indica che la nave affondò tra il 687 e il 720 DC, ed è notevolmente avanzata sulla base di ciò che sappiamo dell'architettura navale francese del Medioevo. Potrebbe essere stata la prima nave del suo tipo o una nave sperimentale considerata un fallimento dopo il naufragio, a meno che non riusciamo a stabilizzare il relitto abbastanza da poterlo esaminare adeguatamente. Forse non lo sapremo mai. Numero 14. Monumenti Olmecchi Atenos, Messico. Ora abbiamo una scoperta notevole avvenuta Atenos, in Messico, nell'agosto 2022. Lì, gli archeologi hanno scoperto una serie di enormi monumenti della cultura olmecca che includono una coppia di rilievi scolpiti nella pietra calcarea. Questi rilievi raffigurano i sovrani olmecchi in una posa rituale da contorsionista che si diceva riducesse i livelli di ossigeno nel cervello e inducesse uno stato di trance. Gli olmecchi credevano che questo processo fosse divino. Queste raffigurazioni sono estremamente rare, motivo per cui gli archeologi del paese sono entusiasti. Ciascuno dei rilievi è grande, con un diametro di circa un metro e mezzo, e raffigurano anche grandi volti che indossano diademi e specchi con croci olmecchi al centro. È difficile determinare l'età esatta di queste antiche opere d'arte, ma questa parte di Tinos, vicino al fiume Usumacinta, era un importante centro abitato degli olmecchi durante il periodo formativo. Circa 2.900 anni fa, gli esperti di arte antica sudamericana suggeriscono che lo stile dei rilievi potrebbe essere stato influenzato dai primi Maya, sebbene questa affermazione sia controversa e non ci siano ancora prove sufficienti per sostenerla. Alla fine, i Maya divennero predominanti in questa parte del paese circa 2.000 anni fa. Numero 15. Rotoli del Mar Morto. Quasi tutti hanno sentito parlare dei rotoli del Mar Morto, ma quanto ne sai? Sapevate, ad esempio, che sono stati scoperti per caso e che qualcuno una volta ha tentato di venderli nella sezione riservata di un giornale? I famosi rotoli furono trovati da pastori di capre beduini adolescenti nell'antica città di Qumran in Israele. Nel 1947, nascosti all'interno di una grotta sulla riva del Mar Morto, rendendosi conto che i rotoli di cuoio potevano essere significativi. I pastori li vendettero a un antiquario locale, che contattò esperti e scoprì che avevano più di 2.000 anni. Ciò scatenò un'esplorazione frenetica e la scoperta finale di oltre 800 manoscritti. La collezione fu divisa e venduta in tutto il mondo, anche attraverso una pubblicità del 1954 sul Wall Street Journal. Le origini dei testi sono misteriose, ma si ritiene che siano stati scritti da una devota setta ebraica conosciuta come gli Esseni circa 2.100, anni fa. Al loro interno si trova quello che è considerato il più antico manoscritto conosciuto dell'Antico Testamento, compresi scritti che non compaiono nella versione ufficiale del libro. Curiosamente, uno dei rotoli è scritto in rame e sembra dettagliare la posizione di un enorme tesoro antico, che i cacciatori di tesori cercano ancora oggi.